Pazzi di salute Noi creeps dovremmo essere in forma per il nostro lavoro di assistenti alle terme Siamo già in ottima forma, guarda qui Smettila di affannarti Ehi, date un po' un'occhiata a questi bicchi picchi Cerca di togliere di mezzo quel bilanciato Vuoi che tolga di mezzo questo bilanciato? Semplicissimo Ehi, fa piuttosto impressione Non è poi una gran cosa Non credo di poter resistere più a lungo Anch'io non ce la faccio più Presto portaci subito alle terme Mister Bruno non avrebbe potuto assumere degli assistenti migliori mentre sarà in vacanza Ehi, questo posto sembra deserto Con questo tipo di attrezzature chi volete che venga qui? È vero, quando avremo modificato questo posto gli affari di Mister Bruno andranno a gonfiavere Ok creeps, andate a prendere il materiale Bene, abbiamo quasi finito Niente male, così dovrebbe essere una vera saura Ehi, ma che succede? Potrebbe essere un cliente oppure un terremoto C'è nessuno? C'è nessuno? Al posto di questo cliente sinceramente avrei preferito un vero terremoto Bla bla Ah, siete qui voi Dovete assolutamente aiutarmi, sono disperata, devo dimagrire Non deve temere Milady, è venuta al posto giusto La sauna è proprio quello che ci vuole per lei Ho finito signora, adesso è tutto a vostro Uno scheletro, io voglio dimagrire ma non così tanto Hai spaventato a morte il nostro primo cliente, Dingbat riportala indietro Dobbiamo pesarla per renderci conto di quanti chili deve perdere Trasformati in bilancia, scimonito, avanti Oh, mettimi giù, non voglio più vederlo Noi si preoccupi, lui lavora proprio qui Ventila sulla bilancia, così potremo controllare il suo peso, Dingbat Allora dimmi quanto pesa Pesa troppo Oh, non posso farsi niente, se solo guardo il cibo aumento subito di peso Dio, miei 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 fragole, che mosche, banane e poi laguna nera Guarda cosa hai combinato, testa dura, ingrassata di 50 chili Non pianga signora, lo aiuteremo noi a dimagrire Accendete la macchina Crips, aumentiamo la potenza per farla tornare in piena forma Manda più calore No body, no body, va tutto bene Io sto bene, ma tu non potrai dire altrettanto Oh, 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 oh Forza attenzione, la salata sapere solo Per tutti i diavoli ce l'abbiamo fatta E per celebrare prendiamo tutti del cioccolato Crips in budino Oh no, cioccolato Crips in budino Voi, voi Crips, vi avevo detto di non farmi vedere nulla da mangiare Penso di aver fatto di nuovo fiasco E così me lo sono voluto, andrò via di qui Ehi, aspetti, garantiamo ottimi risultati Presto, presto e biscire Avanti il muotare più velocemente Non perdere nemmeno un chilo questa andatura Io so come farla nuotare più velocemente Dimmi, hai dato da mangiare a quello squalo stamattina? Oh, l'ho dimenticato E allora fallo uscire subito di lì Siamo qui per far perdere dei chili in più o no per perdere i nostri clienti? Adesso ha avuto il suo pasta Questa è la vostra ultima possibilità Siete sicuri che funzionerà? Naturalmente È una dieta proprio eccellente È una vecchia ricetta della Tresilvania che non ha mai fallito prima Non l'abbiamo mai sperimentata Ragnatine nel posto Acqua di soda Clips e un pizzico di polvere demoniaca Evviva! È pronta? Io spero che funzioni Per bacco di amine sta funzionando Sento come se il peso svanisse completamente Vai! Vai, Crips! Guardatemi! Siete carata di peso dopo tutto Ora sarete voi a perdere il vostro! Oh, è l'inferno Questo lavoro all'eterno Rischia di essere dannoso Per la nostra salute E bla 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 bla